Io comunque sono in generale mega iterato, cioè a parte quella cosa là, comunque c'era gente che anche mi offendeva perché non parlava di quella cosa, sai io c'ho un po' quelle 500 persone che non aspettano altro Che ammazzarti di qua Ma si capisco pure sai, perché la roba che ho fatto io finora, che è un po' street, diciamo che talmente l'hanno provato a fare in Italia che non erano realmente quella cosa là, che un po' passi per il deficiente Hip Hop TV in onda su Sky, canale 720 e in free streaming su tutti i device su live stream.com slash hip hop tv slash live